Abitava da tempo in piazza Merisi, Maria Teresa Rancati, classe 36, ceca da sempre ma abilissima, dicono parenti e conoscenti, a muoversi nel suo appartamento che aveva condiviso con la sorella fino alla sua scomparsa. Oggi, dieci minuti dopo che la signora che l'aiutava in casa se n'era andata, ha gridato chiedendo aiuto. In pochi istanti le fiamme e il fumo l'hanno avvolta e per lei non c'è stato scampo. Era da poco passato mezzogiorno, all'origine probabilmente un cortocircuito nella spina della lampada. Increduli i vicini, provati i parenti accorsi sul posto poco dopo l'accaduto, che l'hanno ricordata come una persona bravissima. Il vicino di casa, che abita nell'appartamento di sopra, che per uscire con la moglie è stato aiutato dai vigili del fuoco che gli hanno coperto il capo e in cui è riuscito a rientrare nel pomeriggio ma senza poter utilizzare la sala, perché il soffitto è stato danneggiato, ha rivissuto quegli istanti terribili. Mi sentivo le ore, aiuto, aiuto. Quando sono andato in camera per vestirmi, per uscire, avevo già davanti un muro di fumo. E non siamo stati costretti a stare in camera, barricati. Fin quando l'appartamento di vigili del fuoco, portarci via. Perché non potevo neanche aprire le finestre, come aprivo le finestre già mi veniva il fumo in casa. Ho sentito che c'era la badante della signora che abita qui al piano rialzato, che è andata a vedere cosa è successo qua. Praticamente mi ha detto che la signora è in fiamme comunque.